Granata per aver segnato la splendida doppietta che ha messo capo la sua ex squadra, chiamiamola ex, il Venezia. C'è un'iniziativa del Bristol con il numero 10, Ellison, se ne va Ellison, e c'è il gol! C'è il gol di Ellison quando il cronometro non ha nemmeno trascorso un minuto dall'inizio della partita, Ellison, il numero 10 della... l'inglese sta attraversando un periodo non troppo felice, gli ultimi anni hanno coinciso con la retrocessione nella nostra seconda divisione, Pacione! E c'è il gol di Marco Pacione, ha conquistato una palla il centravanti della Reggiana, è andato al tiro, c'è stata la deviazione di... Morello purtroppo il passaggio di parlato era troppo lungo, recupera la palla a Cardi, ci sono i giocatori della Reggiana in superiorità numerica, c'è De Falco... A Cardi tutto solo, gol! C'è il gol di Beppe a Cardi! E ve l'ho detto, a Cardi riesce tutto, al 27esimo del secondo tempo il cross di Monti e da Cardi puntualissimo non ha perdonato. Grazie!